Siamo contenti del lavoro svolto questo mese, del lavoro portato avanti per mettere una toppa delle irresponsabilità che di certo non sono state le nostre. Gli italiani si sono ritrovati in una crisi che è stata causata da un gesto irresponsabile della Lega di Matteo Salvini che non credo potrà tanto lamentarsi in futuro di cosa faremo, perché noi faremo bene ma sbaglieremo anche, l'importante è che non si sbagli in mala fede, a me hanno insegnato che quando si sbaglia e si sbaglia in buona fede si chiede scusa e si va avanti.